Anche l'ultima delle celebri incompiute sta per essere consegnata alla città, quantomeno sta per essere completata. La ditta 2S Costruzioni di San Cataldo, che si è giudicata all'appalto, completerà entro una ventina di giorni i lavori alla piscina comunale di Contrada Perriera. Intervento effettuato attraverso l'utilizzo di fondi cipe per un importo di 270 mila euro, che ha consentito di completare la parte esterna dell'edificio, il parcheggio, l'impianto di illuminazione e l'allaccio fognario. L'assessore allo sport Davide M. ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo e verificato il rispetto dei termini di consegna previsti nel contratto. A novembre la struttura sarà pronta e l'attenzione adesso si sposta sul bando, in fase di elaborazione, per l'affidamento della gestione della struttura a privati, che dovranno anche provvedere agli arredi. L'assessore M. ha sostenuto in questi mesi di avere ricevuto diverse manifestazioni di interesse alla gestione della piscina di Contrada Perriera, ma è con la pubblicazione del bando e successiva presentazione e valutazione delle offerte che si avrà contezza di tutto ciò. La scelta di affidare la gestione a privati solo dopo il completamento dell'opera è arrivata dopo anni di tentativi, ovviamente non andati a buon fine, di procedere attraverso il project financing, ossia con completamento della struttura a carico della stessa società che l'avrebbe gestita. Ma tutto ciò ormai è storia, la piscina è quasi pronta e si spera in un'accelera definizione delle procedure che ne consentano l'effettiva apertura. Tra l'altro il ridimensionamento del progetto iniziale, piuttosto ambizioso, come per tante altre opere pubbliche della città rimaste poi per anni incomplete, ha consentito di sfruttare l'area esterna e parte dell'edificio anche per un altro progetto inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato giusto questa settimana dal Consiglio Comunale. Stiamo parlando del Palazzetto dello Sport, il cui costo pare sia stato preventivato in 1.800.000 euro. Progetto predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale che prevede la realizzazione di un campetto di pallacanestro di pallavolo, una piccola tribuna e gli spogliatoi. Obiettivo realizzare in quell'area una sorta di cittadella dello sport. Il problema però è economico. Escluso il ricorso ad un mutuo, non rimane che aspettare ed auspicare che il progetto del Palazzetto dello Sport possa essere accolto e finanziato dallo Stato nell'ambito degli investimenti annunciati dal Premier Renzi su edilizia scolastica e sportiva.